Amici del soft libro open source, benvenuti o bentornati in questa 165esima puntata del podcast di Marcos Box, l'ultima puntata del 2023. Mamma mia, quante puntate che ho fatto quest'anno? Non lo so, ho perso il conto. Sono tante comunque. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libro open source delle ultime settimane, anzi in questo caso degli ultimi 4-5 giorni. Ci sono state le vacanze di Natale di mezzo e quindi di notizie postate su blog, ce ne sono state poche. Vi avevo detto poi che mi sarei preso una piccola pausa dal podcast, però ho deciso ugualmente di fare questa puntata extra per chiudere l'anno, perché almeno così ne approfitto per farvi gli auguri di buona fine e buon inizio anno. Ma iniziamo con le notizie. Apriamo la puntata parlando di Firefox, che ha visto pochi giorni prima del Natale il rilascio della nuova versione, della nuova major release di quella che mi ha visto l'unica vera alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium. Firefox 121 è una versione molto importante per gli utenti Linux, in quanto abilita il supporto a Weyland per impostazioni predefinite al posto di X-Weyland. Ciò comporta il supporto per il gesto del touchpad, del touchscreen, l'uso App2Nav, miglioramenti nelle impostazioni per la gestione del DPI del monitor, migliori prestazioni grafiche e molto altro ancora. L'unico problema che si ha con questa versione è dovuto ad alcune limitazioni del protocollo Weyland, che riguarda la funzionalità di picture in picture, che richiede un'interazione aggiuntiva da parte dell'utente per poter far funzionare in caso di Weyland. Si tratta di fare clic con il tasto adesso e il mouse sulla finestra, quindi c'è un clic in più da fare, però è una cosa da sottolineare, vero devo segnalare questa cosa. Ci sono poi novità anche per quanto riguarda gli utenti Windows, perché Firefox ora richiede agli utenti di Windows di installare l'estensione video di Microsoft AV1 per abilitare il supporto alla decodifica hardware per il codec video AV1. Qualora non fosse già installata, basterà andare in About Support e ci sarà un pulsantino che ci dice, oh installala perché ti serve installa, quindi ti consiglia di installare ed è facilmente installabile così. Infine ci sono novità anche per quanto riguarda gli utenti Apple, che possono beneficiare del supporto alla funzionalità di controllo vocale su macOS. Comune poi a tutte quante le piattaforme, meglio, comune a tutti i sistemi operativi, troviamo miglioramenti nel visualizzatore di PDF, che adesso include un pulsante per semplificare l'eliminazione di disegni, testi e immagini. Quindi Firefox sta diventando un vero e proprio editor di PDF ed è una funzionalità che io all'inizio ho criticato, però alla fine mi sto trovando a utilizzare molto spesso, soprattutto quando sono in ufficio, dove non ho il mio solito programma che utilizzo a casa per editare i PDF e la utilizzo per compilare i vari moduli da mandare a pubbliche amministrazioni, fornitori di energia, gas e quant'altro. Quindi aprite con Firefox il PDF, ci iscrivete, potete compilare tutti i moduli e viene tutta una cosa più carina anche da presentare, non che scrivere a mandare, soprattutto nel caso mio che ho una scrittura che fa schifo. E quindi con questo si evitano anche fraintendimenti di, mai volevi dire un 2, volevi dire un 7, volevi dire un A, B, C, D, così. E stampatello scritto al computer, quindi non ci sono problemi. Passiamo adesso a parlare di distribuzioni Linux e parliamo di una notizia che moltissimi di voi utenti attendevano con ansia, ovvero del rilascio della versione stabile di Fedora Asiremix. Che cos'è Fedora Asiremix? È una distribuzione, anzi la distribuzione di punta del progetto Asiremix, che mira a rendere Linux compatibile con i computer Apple equipaggiati con il nuovo SOC Apple Silicon, sia M2 che M1. Fedora Asiremix è il risultato di una stretta collaborazione tra il team del progetto Asiremix e Fedora Project e ci offre una distribuzione completamente integrata e funzionante. Quali sono le caratteristiche di questa prima versione di Fedora Asiremix? Beh, il punto 1 è quella di essere basata sull'ultima versione stabile di Fedora, ovvero Fedora 39. Ha KDE Plasma come ambiente desktop, nello specifico KDE Plasma 5.27. È possibile comunque installare anche il nome successivamente, però loro appunto offrire tutto out of the box con KDE Plasma, che ricorda tutti essere il miglior desktop environment al mondo. Abbiamo poi un'esperienza 100% basata su Wayland, abbiamo il supporto OpenGL 3.3, inclusi i shader geometrici accelerati da GPU, e infine troviamo una cosa molto importante che spesso viene sottovalutata, in Linux, in Linux, ne sappiamo qualche cosa, Fedora 6 Remix offre un audio di alta qualità out of the box grazie alla stretta collaborazione fra i progetti Pipeware e Wireplumber, per aggiungere un supporto per una configurazione DSP completamente automatica, trasparente e al bacio. Maggiori informazioni su Fedora Asiremix le potete trovare sul sito ufficiale del progetto, e mi sta venendo voglia sempre di più di prendermi un Mac per poterlo provare. E concludiamo questa puntata con un nuovo hands-on di Luca. Questa volta Luca ha deciso di farsi del male, diciamocelo, e è andato a installare in macchia virtuale RockyLinux 9, e l'ha fatto per capire se fosse possibile utilizzare RockyLinux come una workstation. Per chi non la conoscesse, RockyLinux è una delle distribuzioni basate sul codice di RedData Enterprise Linux e mira ad essere una distroclone della sua controparte commerciale, le cui caratteristiche sono stabilità, i pacchetti inclusi non sono le versioni più recenti, ma sono estremamente rodati e ricevono tutti gli aggiornamenti di sicurezza, e la longevità, visto che solitamente le versioni sono mantenute per una decina d'anni. RockyLinux 9 sarà supportata sino al 31 maggio 2032, e come giustamente ha ricordato Luca, la distro durerà molto probabilmente di più dei PC sulla quale verrà installata. Andatevi a leggere l'articolo perché lui, oltre ad aver installato la distro, ha fatto anche una mini guida post-installazione, facendo poi le sue solite considerazioni finali sulla distribuzione. Fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate un commento, e se anche voi utilizzate questa distribuzione, fatemelo sapere, e fatemi sapere se preferite questo tipo di distribuzione anche a distro, diciamo così, più commerciale. L'ho fatto con le virgolette così, con le dita, non l'avete visto. Devo fare la controparte video del podcast. Ecco, questa ultima notizia si conclude qui, questa 165esima puntata del podcast di Marcos Box. Il blog riprenderà molto probabilmente la programmazione regolare dopo l'epifania, che qua, se Dio vuole, ci aspetta ancora una settimana di abbuffate. Colgo l'occasione poi per porgervi i miei migliori auguri di buona fine e buon inizio anno nuovo. Rinnovo l'invito che vi ho fatto in occasione della puntata pre-natalizia. Cercate di trascorrere queste feste con i vostri cari, perché l'affetto della vostra famiglia è la cosa più importante a questo mondo. Non mi stancherò mai di ripetervelo. Ne approfitto anche per invitarvi a supportare il blog, e lo potete fare seguendomi sui canali social, mi trovate ovunque, mi trovate su Facebook, LinkedIn, MastodonX, YouTube, mi trovate inoltre su Telegram, con un canale dedicato alle notizie, con la community Telegram di Marcosbox, che invivito a frequentare e iscrivervi numerosi, dove si può parlare di tutto, non soltanto di Linux, e infine trovate anche il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, che potete utilizzare per supportare il blog, acquistando da uno dei miei link affiliazione. Se siete pratici e sapete come usarlo, trovate il codice referral pubblicizzato anche sul blog, nel bannerino nella colonna a destra del sito. Infine, vi ricordo che potete supportare il blog, anche acquistando o rinnovando una VPN, a scelta tra NordVPN, Surfshark e Atlas VPN. Anche in questo caso sul blog trovate un bannerino, che vi rimanda i miei link di affiliazione. Beh, ho detto tutto. Lunga vita e prosperità. Ci riaggiorniamo fra sette giorni o giù di lì con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!